Si rinnova sabato prossimo come del resto ogni anno nel periodo quaresimale il tradizionale sabato del popolo che tramanta e rinnova la settecentesca tradizione dei sabato di quaresima dedicati alla Madonna. È prevista la celebrazione della liturgia eucaristica presso il Santuario Maria Santissima dei Miracoli alle ore 19, con la partecipazione di tutte le confraternite locali che saranno presenti con il proprio labbero e con la propria rappresentanza. Durante il rito religioso è prevista la consacrazione del popolo di Musmeli alla sua patrona. Appuntamento e raduno dunque di tutte le confraternite in piazza Umberto alle ore 18, da dove se noderà processionalmente il corteo verso il Santuario per la successiva celebrazione della Messa. Cinque confraternite insieme, esattamente l'arci confraternite del Santissimo Sacramento della Madrice, il Santissimo Sacramento della Chiesa di San Giovanni, la confraternite Maria Santissima dei Miracoli, quella di Maria Santissima delle Vanelle in San Derico e quella della Biate Vergine Maria del Monte Carmelo, dunque per il sabato del popolo a Musmeli, paese delle confraternite. Va sottolineato che un tempo questi sabati erano appennaggio dei vari cetti sociali, tranne il quarto che era detto sabato del popolo, perché vi si coinvolgeva l'intera popolazione. Va ricordato che in un primo momento tali celebrazioni si svolgevano alla Madrice, dove avevano luogo la maggior parte dei riti e delle liturgie quaresimali, con tutte le prediche e le piepratiche di pietà, di cui si faceva promotore il quaresimalista, cioè il predicatore che veniva da fuori. Lo spostamento del sabato del popolo dalla Madrice al Santuario ha una data precisa e, come racconta lo storico combiando Angelo Barba, è collegato ad uno dei tanti contenziosi tra i Domenicani e il clero secolare, che nel settecento animarono la vita del paese. Causa della querelle, certo del tutto involontariamente, fu il patriarca San Giuseppe, che festeggiato da sempre con tanto di pane girico del quaresimalista e con solennissima processione nella Chiesa dei Miracoli, ad un certo punto dovete fare i conti con l'inaudita pretesa dell'arciprete di spostare il pane girico del 19 marzo alla Madrice. Ovviamente si scatano allora una furibonda lite che durò parecchi anni e si trascinò con alterne vicente in vari tribunali civili ed ecclesiastici, con l'impiego di oratori di grande fama e dottrina. Ciò fino a quando quelli della Madrice pensarono con astuzia di giocare sul fattore sorpresa e fecero fare in gran segreto una loro statua del santo, facendola giungere in paese in pompa magna con l'immancabile tripudio popolare. Come sempre avviene in queste circostanze. Allora la controversia si trasformò in vera e propria guerra tra opposte fazioni, tanto che dovette intervenire il conte Don Giuseppe Lanza, signore del paese. A lui stavano a cuore sia la Madrice di cui era il gius patrono, sia la Madonna di cui era devotissimo e perciò si adoperò con tutta la sua autorità per far raggiungere un accordo alle due parti. Fu così, come si legge nel volume dell'anzidetto storico, che il primo gennaio del 1765, con atto il notar Antonino Mistretta, si convenne tra l'arciprete Don Vilippo Gengo e il priore Padre Vincenzo Biondolillo, che alla Madrice si doveva ormai riconoscere la titolarità del panegirico e della festa di San Giuseppe, mentre alla chiesa della Madonna si assegnava in campio il panegirico del quarto sabato di quaresima, quello che per essere celebrato da tutta la comunità veniva detto sabato del popolo. Appuntamento dunque sabato prossimo con il raduno in piazza Umberto alle ore 18 e la partecipazione alla messa alle ore 19 presso il santuario Maria Santissima dei Miracoli. Grazie a tutti.